Siamo nella cornice della polemica, quella innescata, manco a dirlo, dal sottosegretario Vittorio Sgarbi, che appena ha partecipato alla festa medievale. Tutto tranquillo, sì, se non fosse che il fumantino critico si sia letteralmente scagliato contro parte di quelli che definisce quadri falsi della collezione Gallupi conservata al Museo di Arte Moderna e Contemporanea e fa di più, dice che manderà un'ispezione che, secondo lui, i nomi proposti da parte delle opere della collezione sarebbero fatti in modo ingannevole e senza dati di provenienza. Subito la replica del sindaco di Penne Gilberto Petrucci. Invitiamo Sgarbi ad attivarsi velocemente per portare alla città un polo museale all'avanguardia con un'attenzione particolare a Remo Brindisi, la cui collezione è all'interno dello stesso museo. Intanto lo stesso ministro, San Giuliano, avrebbe scritto al primo cittadino per le rassicurazioni del caso. Anche il presidente del museo, Paolo Grugniale, e l'assessore Emilio Camplese del Comune di Penne vogliono commentare. Allora, avete potuto osservare quanto è bello questo museo, no? Avete fatto un giro. La stessa cosa abbiamo proposto a Sgarbi, cioè l'abbiamo invitato, gli abbiamo fatto vedere tutte le bellezze di Penne, non solo il museo ma anche le chiese. In particolare poi gli abbiamo fatto vedere le criticità che ci sono. Quando l'abbiamo invitato qua gli abbiamo fatto vedere ci sono dei quadri subiudici sulla sua autenticità della collezione Galluppi. Gli abbiamo chiesto un suo parere e lui ha espresso, così anche in maniera piuttosto veloce, in quanto gli espertisti vanno fatti con una certa calma, lui ha osservato la parte retro del quadro e ha probabilmente intuito che alcuni non sono autentici. Allora, intanto la collezione Galluppi ha un falso di Galluppi, oggi mi è stato detto, sempre da chi è del settore, io non sono del settore, che vale addirittura più di un autentico perché praticamente lui si dilettava o raccoglieva i falsi o lì addirittura si dice li produceva improprio. Quindi anche in quella ipotesi, voglio dire, avere un falso del Galluppi addirittura alcuni dicono che è guagli a quell'autentico. Un vero e proprio caso mediatico, dice l'assessore Camplese. Quindi abbiamo deciso di portarlo al Museo di Arte Moderna e Contemporanea per vedere le bellezze che ospita il nostro museo e nella fattispecie un approfondimento sulla figura di un contemporaneo, l'artista Remo Brindisi. Collezione che è piaciuta molto al sottosegretario. Però c'è qualcosa che a Sgarbi non è andato giù. Cosa? Sì, a Sgarbi non sono andate giù alcune opere custodite all'interno del museo provenienti da una collezione Galluppi, una collezione che abbiamo ricevuto diversi anni fa a livello anche istituzionale, quindi d'accordo con il Ministro che so che nelle ultime ore ha contattato il nostro sindaco Gilberto Petrucci. Si è promesso anche lui di venire a Penne per vedere alcune criticità. Nelle chiese in particolare.